Musica Sono giunte a San Giovanni Rotondo le prime due famiglie di profughi siriani. Esse alloggeranno nella casa Papa Francesco, costruita dai frati minori Cappuccini per offrire accoglienza a cittadini stranieri in difficoltà. Le due famiglie siriane, l'una composta da nove persone e l'altra da sei, sono da tempo svollate in un campo profughi della Giordania e ciascuna ha un componente gravemente ammalato e necessitante cure. I migranti sono giunti in Italia grazie a un corridoio umanitario attivato dalla Conferenza Episcopale Italiana in base ad un accordo stipulato con il governo italiano per garantire un ingresso sicuro nel nostro paese a persone in condizioni di particolare vulnerabilità. Da Bari le due famiglie sono state trasportate a San Giovanni Rotondo con un autobus messo a disposizione dalla Caritas diocesana di Manfredonia che ha coordinato le operazioni di assistenza. Negli interventi di accoglienza sono coinvolti l'ordine francescano di San Giovanni Rotondo, la parrocchia San Francesco d'Assisi e per le prestazioni sanitarie l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e il presidio Agli Angeli di Padre Pio. La residenza Papa Francesco è stata donata idealmente il 5 febbraio 2016 al Santo Padre quale segno concreto di riconoscenza per l'onore riservato a San Pio da Pietrelcina scelto durante il Giubileo straordinario della Misericordia come modello per i sacerdoti impegnati nel Ministero della Riconciliazione Sacramentale.